Grande successo per l'edizione 2021 del Melanoma Day. L'iniziativa, che quest'anno ha avuto come cornice la città di Atina, ha visto la presenza di tanti professionisti, ma anche cittadini, per affrontare di petto una delle malattie più subdole, il tumore della pelle. L'evento ha avuto il suo inizio in mattinata all'interno del Palazzo Ducale, dove oltre 30 medici di medicina generale, nel rispetto del protocollo anti-covid, hanno partecipato alla giornata di formazione proprio sull'approccio con la scoperta dei melanomi. I medici di base, anche in questo caso, rappresentano il primo filtro che permette la diagnosi con gli specialisti e per questa necessaria una formazione continua. Poi si è passati al premio di laurea Silvio Pistore, in memoria del papà di Gianluca, organizzatore dell'evento, deceduto proprio per le conseguenze di un melanoma. Il premio è stato consegnato alla dottoressa Laura Palumbo dell'Università dell'Aquila e al dottor Luca Muscatiello dell'Università Cattolica. Poi ci si è spostati nella Casa della Salute, dove sono state realizzate, grazie agli specialisti che hanno aderito, oltre 150 visite gratuite, filate lisce, senza intoppi e con diverse lesioni sospette individuate.